Partito Francesco Rotella con il numero 416 Subito dopo abbiamo conto Francesco Pelina con il numero 429 Arriba Settiviano, anche lui nella città, forza Settiviano Grazie a tutti Mi piacerebbe Bravo E' un pilota Adesso Francesco Rotella con il numero 416 Settiviano a 6 Stiamo a disminare Melina Francesco col numero 429 Melina Francesco, prossima da parte Settiviano, vediamo qui Settiviano, più della pittura Settiviano, avviamo distrazione Matelo! O pelota! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.